Ricorda il T-Joker di Todd Phillips, ma anche il Taxi Drive degli anni 70, la storia di Saeed Mechaquah. Ma qui non c'entra l'ordinaria follia hollywoodiana, ispiratrice di pellicole da notte degli Oscar, perché Stefano Leo non era un personaggio da film, ma un giovane uomo di 33 anni, che la mattina del 23 febbraio scorso è stato sgozzato alla gola mentre si stava recando al lavoro. Ecco perché le dichiarazioni, tratte dall'interrogatorio di Saeed Mechaquah, reoconfesso del delitto dei murazzi di Torino, non hanno lo stesso effetto delle follie di Arthur Fleck o di Robert De Niro, nonostante alla base ci sia quella che viene vissuta come un'ingiustizia della vita. Io ho voluto ammazzare il semplice fatto che per me la cosa più sacra nella vita sono i figli, e io non sono messo come un'italiana di merda che chiunque gli vuole aver perduto, anzi sono ancora sconvinto che chiunque gli vuole questa stanza la pensi come a me, perché a me se mi tocchi il mio figlio primo genito, nel senso che gli cambi l'educazione. Ho avuto 12 giorni al giorno per stare con mio figlio e tu me lo togli, ma me lo togli senza motivo. Tutto, dunque, nella mente di Saeed, è cominciato proprio da quel figlio, negato dalla sua ex, e dal fatto che il nuovo compagno di lei diventa sempre di più il papà di quel bambino, probabilmente la prima e unica cosa bella della sua esistenza. Dapprima, preso dalla disperazione, pensa a togliersi la vita, ma poi cambia idea. La mattina di quel drammatico 23 febbraio esce dal dormitorio di Piazza d'Armi e acquista una confezione di coltelli colorata, con il solo intento di uccidere. No, ma io c'è un coltello qualsiasi. Perché mi serviva il suo coltello? Stai parlando dell'omicidio. E' come se tu devi andare a caccia e 10-10.000, non mai il ciclo è più comodo per la sua azione. Ma chi era la preda di Saeed? Uno qualsiasi. No, uno qualsiasi no, c'era idea anche su quello che vuole sapere. Però non era premeditato. C'era uno che magari tirato fuori dal giornale, era uno più in vista, perché quando è stato un quarantenne, nessuno ci faceva caldo. Sostante un vecchio, nessuno ci faceva caldo. Quella mattina, ai Murazzi, tra la follia di Mecequa e quella lama di coltello, si è interposto il povero Stefano Leo, colpevole solo di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma Saeed, nell'interrogatorio del 31 marzo, reso davanti ai PM Enzo Bucarelli e Ciro Santoriello e al comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Torino, Andrea Caputo, presente illegale Basileo Foti, quella mattina aveva in testo un preciso schema. Il 18 novembre, a Torino, inizierà il processo con rito abbreviato.